buonasera buonasera a tutti eccomi qua di nuovo con voi per discutere eh dell'evoluzione meteorologica eh nel medio e lungo termine adesso oggi abbiamo visto come eh gli allarmismi relativi all'arrivo di eventuali uragani nel Mediterraneo fossero ingiustificati non per questo eh gli uragani in Atlantico non esistono ma piuttosto vengono presi in carico e si trasformano in perturbazioni normali ma quello che invece è molto interessante in quest'ambito è che settembre si pronuncia sempre più instabile e fresco con scambi meridiani accentuati che potrebbero condurre a una seconda decade particolarmente eh ricca di colpi di scena con contributi freddi artici nel Mediterraneo quindi il ritorno a condizioni di grande instabilità contemporanei eh temperature sotto media dopo tanto sopra media e e chissà qualche spolverata di neve persino sulle Alpi perché sarebbe una cosa assolutamente normale ma diciamo una grande dinamicità dinamicità atmosferica iscrivetevi al canale YouTube grazie a tutti questi aggiornamenti che vi faccio eh cliccate sulla campanellina per restare aggiornati così quando eh faccio un nuovo video lo sapete immediatamente e passiamo subito oggi a descrivere non nella situazione attuale ma quella che verrà vi ho mostrato oggi in questa carta che vedete questa è la circolazione nella media troposfera quindi dove vanno le grandi figure bariche con eh le linee bianche che indicano la pressione al suolo vi ho fatto vedere come l'uragano Daniele che è presente tutt'ora di categoria uno in Atlantica ovest delle Azzorre eh si dovesse confrontare con quella che è la circolazione attuale che vede una grande depressione eh nel vicino Atlantico che manda aria calda da oggi e per tre quattro giorni nel Mediterraneo centrale facendo aumentare le temperature quindi le temperature aumenteranno nei prossimi giorni nell'immediato ma poi qui riprendiamo quegli gli slide di oggi per poi spiegarli e aggiungerne altri poi mentre Daniel viene eh preso in carico dalle basse pressioni atlantiche legate al volcio polare entro il nove settembre una nuova saccatura atlantica con il nuovo cavo d'onda arriva nel Mediterraneo centrale mentre le figure di alta pressione si collegano sempre più a nord guardate vedete questo è molto importante nell'area islandese e quindi poi è più da qui inizia lo slancio eh dell'anticicrone delle Azzorre verso nord come l'arrivo di una saccatura ovvero di una figura di bassa pressione protesa tra due figure di alta pressione che si infila verso il Mediterraneo centro-occidentale e genera mal tempo entro la metà di settembre ed ecco l'aggiornamento che vi faccio vedere sempre più marcata l'affermazione di un'alta pressione in aria islandese eh aria fredda dall'Artico vedete qui dalle Sbalvard che scende giù fino al Mediterraneo centrale dopo la eh la prima metà di settembre e genera forse vedremo il fresco quello vero che vi faccio vedere eh per eh qual è il motivo per cui questa previsione sembra possa avere una sua validità perché in sostanza guardate a scale emisferica questa è l'emisfera emisferica cioè tutto ciò che riguarda dall'equatore in su quindi il nostro emisfero e guardate il neonato vortice polare ovvero quella figura di bassa pressione che staziona al nell'area polare durante tutto l'inverno e come già si sia piuttosto suddiviso eh nel lobo questo verso la Siberia questo è quello canadese e qui un nucleo che scende giù verso le nostre regioni verso il Mediterraneo e lascia spazio guardate ancora meglio eccolo qua questa figura di alta pressione che spinge verso l'Artico e aria fredda scende direttamente dal mar glaciale Artico verso il Mediterraneo questa qui è sempre essere la tendenza arriva il freddo di stampo Artico dopo metà mese questo è quello che vi posso dire e questo è quello che si evince dalle carte guardate che temperature eh che vanno sotto media dopo tanto sopra media ci tengo a dirlo non è che veniamo da una glaciazione al momento quindi grande instabilità in settembre masse d'aria fredda fredda veramente fredda questa volta perché l'Artico si sta raffreddando con la sopraggiungere della notte polare e le cose potrebbero cambiare dopo tre quattro giorni di caldo perché adesso farà caldo al centro sud un po' su tutte le regioni ma soprattutto al centro sud vedrete che adesso si inizieranno a lamentare del caldo però ci sta è una ondata di caldo di settembre forse l'ultima ma poi ma poi arriverà molta aria fredda ne riparleremo un abbraccio a tutti continuate a seguire perché generò molto spesso ciao ciao a tutti